È possibile creare uno store dropshipping che può veramente generare vendite in soli 15 minuti? Oggi e nel 2024 la risposta è sì. E all'interno di questo video ti faccio vedere esattamente come con 15 minuti di tempo puoi ottenere uno store migliore del 99% dei dropshipper in un decimo del loro tempo. Ciao sono Samuele, se non mi conosci sono il fondatore di DropshippingKids.com dove aiuto le persone come te a partire da zero, creare uno store dropshipping e portarlo alle fasi più avanzate. In questo video voglio mettermi nuovamente alla prova. È veramente possibile creare uno store, è uno store decente in 15 minuti per poterlo poi lanciare e fare dei risultati? La risposta dicevo è sì, ma in realtà vediamo, nel senso che sono sicuro di poter creare qualcosa di estremo valore in così poco tempo. Non voglio sfidare anche te, ma più che altro questo video è per farti vedere che cosa è possibile con un paio di tool geniali che ci sono oggi disponibili sul mercato senza spendere soldi, quindi senza investire in tool da centinaia di euro, senza spendere soldi per qualcuno su Fiverr che ti garantisce risultati, ma poi non è così. E questo soprattutto anche se hai poco tempo tu già di base, in questo modo puoi veramente velocizzare molto quello che è l'ottenimento di uno store fatto come si deve. Io non ho altro da dirti se non che ci mettiamo al lavoro dal mio computer. Ti invito chiaramente a lasciarmi un bel mi piace se sei pronto al video di oggi. Adesso andiamo a partire con la sfida. Adesso partiamo e ci mettiamo subito al lavoro. Allora, innanzitutto ti faccio vedere, mi tengo qui di fianco il timer così che lo faccio partire, tu lo vedrai a schermo e vediamo appunto quanto tempo ci mettiamo ad ottenere uno store, una pagina prodotto fatta e finita. Ti faccio vedere anche, adesso tra poco partiamo, ti faccio vedere però da cosa procediamo per la creazione dello store e usiamo buildyourstore.ai. Oggi ci sono tanti tool per l'intelligenza artificiale, molti di questi non servono, parte di altri invece ci danno una grossa mano. Buildyourstore è un tool che ho fatto con AutoDS e Shopify in collaborazione dove ti andiamo a consegnare in due minuti, cosa che otteniamo anche qui oggi, uno store con già il branding, logo, colorazione, home page e più di dieci prodotti pre-costruiti. Chiaramente non ci basta perché altrimenti sarebbe già fatto e finito insomma la creazione store. Dobbiamo fare alcune modifiche, te lo faccio vedere però all'interno di questo video. Quindi adesso io faccio partire il timer in questo esatto momento, quindi è partito ora e vado a ottenere lo store. Quindi build your store, metto il mio nome, metto qua un indirizzo mail appunto e poi mi scelgo una nicchia. Prendiamo la nicchia elettronica e gadget. Build my free store e quindi in circa 30-60 secondi dovremmo ottenere le credenziali per accedere. Ok ci siamo, quindi adesso quello che facciamo una volta che arrivi a questa pagina andiamo qua sotto, facciamo login to Shopify. Ok e quindi adesso devo mettere l'email che abbiamo costruito, che abbiamo ottenuto più la password che abbiamo qua sotto. Ok quindi qui andiamo ad accedere. Ora dovremmo arrivare ed essere all'interno del nostro store. Qui dentro subito dobbiamo scegliere un piano, quindi scegliamo il piano basic. Ok adesso che ho preso il piano quindi ho stoppato ovviamente il timer. Comunque vado avanti perché ho dovuto prendere carte eccetera. Comunque ci siamo, quindi qua facciamo add later. Una volta che abbiamo il piano qua non fare nulla, quindi skip, ignoriamo. E adesso dobbiamo renderlo nostro. Quindi vai su impostazioni, user and permission, o utenti e autorizzazioni, quello che è. Transfer ownership e qui mettiamoci la mail su cui vogliamo ottenerlo. Quindi adesso mi metto io delle mie mail, cioè la mail dove lo voglio. Nome, cognome e poi metti la password che abbiamo ottenuto nuovamente qui dentro. Quindi facciamo così e transfer store ownership. Perfetto adesso che sono sulla mail vedi che ho appunto lo store, quindi get started. Dovremmo esserci finalmente abbiamo lo store, scegli quello che è l'account tuo oppure lo crei dalla mail nuova che hai appunto messo, quindi la tua personale e accetti l'invito. Finalmente siamo all'interno dello store, siamo a 2 minuti e 30 circa tranne lo stop, quindi perfetto. E praticamente abbiamo già uno store, chiaramente ripeto non ci basta, dobbiamo andare a sistemarlo. Ti faccio vedere quello che è però il sito, quindi andiamo anche a guardarcelo. Perfetto, quindi Tektopia sarà il nome del nostro brand. Questa è l'home page, qui abbiamo un bel po' di prodotti. Adesso quello che voglio fare è selezionare uno dei prodotti che abbiamo appunto ottenuto per andare ad ottimizzarlo e a gestire la pagina prodotto. Ora, ci sono un paio di prodotti che sembrano interessanti, che sono questo, quindi per la pulizia dell'auto. Questo anche che è un prodotto che conoscevo però secondo me costa un po' troppo. E poi c'è in realtà questa, che è la fascia, quella per dormire, che non è male. Una cosa che vorrei fare è capire se c'è abbastanza contenuti di questo prodotto, quindi quello che cerco di fare, tasto destro, cerca con Google. È importante che quando vendi un prodotto ti assicuri che ci siano abbastanza contenuti di quel prodotto stesso, perché altrimenti è difficile andare a creare delle pagine prodotto fatte come si deve. Qui non vedo tantissimi contenuti, quindi io direi che andiamo forse su questo prodotto, su cui sono sicuro che c'è abbastanza materiale. Quindi ok, adesso che abbiamo questa cosa andiamo ad aprirci il prodotto stesso, che è questo. Perfetto, e adesso quello che facciamo è rielaborare tutta la descrizione. Lo facciamo con ChatGPT e ti faccio vedere l'esatto script che andiamo ad utilizzare. Quindi lo script sarà questo che usiamo qui sotto. Ho uno store dal nome, abbiamo detto, Tektopia. Dovrebbe essere lui, esatto. Poi sto vendendo una fascia, qui lo vai a riempire, una fascia per dormire. Bluetooth, perfetto. E poi quello che facciamo è copiare tutta la descrizione che abbiamo ottenuto e che abbiamo qui in automatico. E direi di fare tutto... C'è un sacco di roba, ovviamente va rielaborata, quindi copio qualunque cosa e lo vado ad incollare. Partendo da queste informazioni, generarmi una descrizione del prodotto in inglese con questi esatti contenuti. Invio e adesso avremo la nostra descrizione, dobbiamo solo sistemarla. Ovviamente tutto quello che andiamo ad ottenere di base non va bene, c'è troppa roba, un sacco di cose da sistemare, quindi meglio rendere tutto molto più minimale. Quindi io da qui cancello assolutamente tutto e rifacciamo tutto da zero. Perfetto, quindi adesso ecco che abbiamo la nostra descrizione, quindi copiamo e incolliamo tutto quanto. Ok, cambiamo anche il nome del prodotto, perfetto. Quindi questo lo togliamo, lo slogan sarà la prima cosa che dobbiamo mettere. Togliamo l'elenco puntato, perfetto. E adesso andiamo ad ottimizzare un po' quella che è la descrizione. Ok, siamo circa sette minuti, quindi ho finito quella che è la descrizione. Sono andato a copiare, incollare, sistemare, resistemare di nuovo la formattazione di quella che è la descrizione. Sono andato a incollare uno script classico finale appunto della mia descrizione stessa. Ora quello che ci manca da fare è andare a mettere qualche keyword in grassetto della descrizione e andare soprattutto a sistemare le foto. Di tutte queste foto che ci ha importato a me non ne va bene neanche una, non perché sono foto troppo pessime diciamo, ma per quello che oggi funziona nel drop non vanno bene. Bisogna andare a lavorare su qualcosa di un po' migliore. Quello che vado a fare quindi è cercare su Google il nome del prodotto. Ok, e adesso quello che vado a fare è cercare tutte foto di alta qualità, come per esempio quella che stai vedendo qui sotto, perché è una foto migliore rispetto alle altre, perché è molto pulita. È una foto reale, è una foto di miglior qualità e non ha nessun testo, nessun contenuto. Vedi che queste sono piene di testi, di editing, di roba che non sembra neanche veramente indossata, quindi insomma bisogna stare attenti a questo contenuto. Vado a cercare almeno 4-5 foto per quella che è la, le foto principali, quelle che vedi qui sotto, più 4-5 tra foto e gif che vado a includere qui dentro. Per le gif dalla stessa parte insomma di ricerca o arriviamo agli store di competitor su cui troveremo magari delle gif oppure a cui puoi fare strumenti tipo gif, in modo tale da vedere subito delle gif appunto del nostro prodotto. Alcune di queste hanno i testi al di sopra, diciamo che forse ho scelto il prodotto sbagliato per insomma questo test. Adesso ignoriamo questa cosa, logicamente dovresti trovare un prodotto anche pulito, senza testi, senza marchi per andare a completare il tuo store. In questo momento siamo a circa quasi 10 minuti di video e di creazione dello store, mi sono perso via nel parlare, nel verificare, fare altre cose però continuiamo, vediamo adesso fin dove arriviamo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ti voglio fermare un secondo per dirti che adesso mi sto mettendo alla prova benissimo, sto cercando di creare uno store in pochissimo tempo. Voglio farti sapere che però mentre questo è un video di 15-20 minuti, all'interno del mio corso completo Dropshipping Keys 3.0 ci sono oltre 25 ore di lezioni inedite, più di 170 contenuti step by step dove ti spiego come partire da zero e creare uno store dropshipping, soprattutto per poi lanciarlo e andare alle fasi più avanzate. All'interno oltre a tutte le lezioni hai anche un gruppo privato di supporto, delle dirette private che tengo io personalmente con gli studenti ogni singola settimana e poi un sacco di template, script, bonus, casi studio e tutto il necessario che ti serve oggi nel 2024 per partire, creare uno store e fare risultati. Trovi il link qua sotto in descrizione, quindi se vuoi partire al mio fianco, questo è il modo migliore per farlo oggi nel 2024. Detto questo ti lascio al continuo della sfida. Ok, fermo il timer in questo momento, siamo oltre i 16-17, in realtà 18 minuti esattamente da timer. Quello che ti faccio vedere è, mi fermo in questo momento, quindi quello che ti incito a fare è chiaramente non metterci 15 minuti per creare lo store. Ti volevo solo far vedere in questo video che è possibile con alcuni tool avere un ottimo boost per avere quanto meno, ripeto, una bella base di partenza su cui lavorare. Comunque abbiamo il nostro store, Tectopia, quindi adesso andiamo su Shop Now, ci andiamo a vedere i prodotti e troviamo il nostro, quindi come puoi vedere già come presentazione è molto diverso dagli altri prodotti. Quindi a livello di titolo, che sono andato a fare molto più piccolo, ho cambiato il prezzo, ho messo il prezzo in sconto, quindi come vedi ci escono anche un paio di feature insomma aggiuntive. Queste sono poi le foto principali, quindi foto sempre molto pulite, molto reali. Volevo dirti, metto le mani avanti e alzo le mani in questo senso, non sono tutte le foto esatte del prodotto. Chiaramente per questo serve un po' più di tempo, quindi qui insomma ti faccio vedere quella che è la forma, la formattazione, le regole di creazione store. Chiaramente con un po' più di tempo puoi fare un lavoro 100 volte migliore. Comunque foto sempre reali, qui abbiamo poi discorso di branding, colorazione, queste sono cose che vengono messe già come preview di base appunto da Build Your Store. E poi qua sotto abbiamo la nostra descrizione. Quindi come puoi vedere qui abbiamo insomma da la descrizione prima a dopo cambia tutto. Una descrizione completa di tutti i testi, tutto il materiale che serve ai clienti per andare poi all'acquisto, con feature, benefici e anche video e gif appunto di quello che è il nostro prodotto. Quindi questa è una descrizione ripeto perfetta. L'ultimo paio di cose che andrebbero fatte sono installare alcune applicazioni, che comunque è una roba che ti richiede pochi minuti. Sono per esempio Trust Badge, per mettere qua sotto anche i badge delle carte, andare a importare le recensioni, che comunque vedi già c'è già l'app qua sotto. Quindi quello che puoi fare è write review, copy appunto delle foto da altri store, le vai ad importare qui sotto e potrai in questo modo importare manualmente appunto delle recensioni. Altra cosa importante è infine la connessione di quelli che sono i fornitori. Per questo all'interno di Build Your Store, se vai su app, ti troverai direttamente l'applicazione di Autodesk. Una volta che arrivi appunto su Autodesk, tutti questi prodotti li potrai collegare manualmente. Autodesk ha una prova gratuita di 30 giorni, quindi ti consiglio per quantomeno andare ad avere tutte le connessioni già fatte. Usa tutti insomma questi tool perché almeno hai tutto già preconnesso. Quello che poi ti basterà andare a fare è andare su product e andare praticamente a ricollegare quelli che sono i tuoi prodotti con i vari fornitori che puoi trovare anche tranquillamente su Aliexpress. Il beneficio di Autodesk infatti è quello di prendere i link di Aliexpress, importarli tramite Autodesk, collegarli al tuo store e Autodesk che resta in mezzo fa il lavoro di intermediario tra te e Aliexpress. Con il beneficio di avere però una gestione migliore e delle spedizioni anche più rapide. Quindi questo è quanto anche per la connessione dei fornitori. Ripeto, ti faccio vedere anche prima com'era la descrizione e la pagina prodotto, quindi quella che abbiamo ottenuto all'inizio era fatta in questo modo. Oggettivamente pessimo, inteso che sì i testi vanno benissimo ma va rielaborata molto. Questa invece è la descrizione finale che abbiamo ottenuto con un 15 minuti di lavoro. Questo è quanto ragazzi, io qui di fianco mentre vi parlo in chiusura vi faccio vedere anche lo store con l'aggiunta delle due o tre applicazioni che vi citavo appunto poco fa. Quello che vi consiglio di fare è sicuramente non metterci tutta questa fretta, diciamo che oggi era più una sfida per mettermi alla prova. Però come hai potuto vedere con un paio di tool, un paio di azioni, di sistemazioni, questo è una pagina prodotto che è 100 volte migliore rispetto al 99% dei dropshipper che magari si limitano a fare un lavoro con un sacco di cose magari in più ma fatto in modo peggiore. Questo è quanto, io spero veramente che questo video ti sia piaciuto. Se così è stato ti invito a lasciarmi un bel mi piace, iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.